Nel 2018 l'agricoltura bresciana chiude il suo bilancio complessivo tra luci e ombre. La produzione lorda vendibile, ossia il valore dei prodotti del settore primario, si mantiene nella nostra provincia complessivamente oltre il miliardo e mezzo di euro, registrando una crescita dell'1,35%. Il pilastro del settore agricolo bresciano resta la zootecnia. Il comparto latte, traino delle produzioni bresciane, chiude con un meno 2,41%, nonostante l'aumento di produzione che ha superato i 14 milioni di quintali. Negli ultimi mesi del 2018 il prezzo del latte ha però invertito la tendenza, con una forte ripresa dell'intero mercato lattiero caseario. La suinicoltura è tornata invece a vivere un periodo di forte crisi, con una decisa flessione dei ricavi che raggiunge quasi il 14%, causata da una forte contrazione delle quotazioni di mercato. Nonostante l'epidemia di influenza aviaria che ha colpito la nostra provincia, tengono tutti i comparti del settore avicolo, che nel 2018 supera i 280 milioni di euro di volume d'affari, arrivando al secondo posto per valore di produzione lorda vendibile agricola bresciana. La ripresa dei consumi di carne bovina ha trainato nel 2018 questo settore della zootecnia, che mette a segno un altro segno più con un aumento del 2,4%. Per le produzioni vegetali abbiamo assistito ad un altro anno assegnato da un andamento negativo. Calano ancora le superfici a mais, meno 5,26%, e a soia, meno 14,29%. Il valore della produzione di grano turco perde un altro 7%, riducendosi a poco meno di 79 milioni di euro. Dopo il 2017, segnato fortemente dalle gelate primaverili, il 2018 è invece l'anno della viticoltura e dell'olivicoltura. La vendegna del 2018 ha visto numeri da record, con oltre 650.000 quintali di uve raccolte, destinate ai soli vini a denominazione d'origine, con un valore, considerando le sole uve, di oltre 105 milioni di euro. Anche il settore olivicolo bresciano, in contrattendenza con la situazione nazionale, chiude una delle migliori annate di sempre, raggiungendo una produzione di olive di oltre 122.000 quintali.